Ho pensato a questo video per correggere tutti gli errori che trovo spesso all'interno dei commenti dei miei video. Cerchiamo di fare qualche esempio. Ci sono enormi discussioni sul fatto che la perla delle Crystal Gems sia una perla rosa, una perla bianca o addirittura altro. L'unica vera risposta è che non si sa. È possibile che sia una perla rosa, è possibile che sia una perla bianca, è possibile che sia una perla opaca e difettosa. Potrebbe essere una perla scartata, potrebbe essere appartenuta a un diamante, come potrebbe essere appartenuta a qualcos'altro. Per ora non abbiamo informazioni ufficiali a riguardo. Quindi qualsiasi cosa voi pensiate può essere più intelligente, meno intelligente, più ricercata, meno ricercata. Ma resta una teoria vostra, che non dovete necessariamente imporre agli altri. Non si sa. La fusione può essere interpretata in moltissimi modi diversi. L'unico punto comune e irrevocabile è che è la rappresentazione fisica della relazione fra due persone. Interpretarla come un figlio in realtà è sbagliato. In quanto un figlio ha coscienza propria, un figlio è un'altra persona generata da altre due persone. E non è la somma di queste due mescolate fra loro con caratteristiche di una e dell'altra nel vero senso della parola. Insomma, non credo che voi siate un miscuglio di vostro padre e vostra madre, ma che siate una persona completamente diversa. Che però non conosce tutti i ricordi di vostri genitori. Un figlio è un'entità completamente nuova e si basa sul concetto di crescere, di vita come alternativa alla morte. Insomma, abbiamo un bambino che ha la sua personale esperienza. Nella fusione non c'è nulla di tutto questo. La fusione ha i ricordi dei suoi genitori, se dobbiamo interpretarla come un figlio. Una fusione contiene la coscienza dei due genitori. Non ha senso. Quindi non interpretate la fusione come un figlio, perché diventa una cosa con parecchie, 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 parecchie eccezioni, spiegazioni, cose simili che effettivamente perde senso. Quindi dire che Stivonni è la figlia di Steven e Connie, beh, è abbastanza stupido effettivamente. Perché significerebbe che due bambini hanno generato una figlia più grande e più matura di loro, che contiene all'interno di se stessa la coscienza dei suoi genitori e che non esiste quando i suoi genitori esistono. Non ha senso. Com'è possibile che le gemme siano omosessuali se sono assessuate? L'avrò detto in un milione di video. Rebecca Sugar, quella che ha creato la serie, avete presente? Lei, la sua parola è assolutamente Vangelo, perché è lei che ha creato Steven Universe. Quindi se Rebecca Sugar dice qualcosa sulla serie, quella cosa è legge. Perché l'ha creata lei. Ogni altra cosa che sai su Steven Universe è stata decisa e messa all'interno della serie da lei. Quindi il fatto che dica delle cose che non sono nella serie, va preso comunque come scienza, come un dogma incontestabile. Se Rebecca Sugar ha detto che all'interno della fusione del rapporto fra le gemme e di un sacco di altre scene, lei sta parlando della sua esperienza omosessuale, non ci piove, è così, mi spiace. Non è una mia interpretazione, non è una tua opinione, è l'opinione di Rebecca Sugar. Opinione fra virgolette, perché non è un'opinione, perché è Rebecca Sugar che l'ha detto. E ha detto che intendeva in questo senso la fusione. Se mi volete dire che le gemme sono asessuate e quindi non si può parlare di omosessualità, punto primo hanno aspetto femminile. Due femmine che si amano sono omosessuali. Il termine omosessuale significa che due persone dello stesso sesso si amano. Di conseguenza, comunque voi la intendiate, si parla comunque di omosessualità. Perché se volete dirmi che le gemme sono in un certo senso femmine, allora per l'innamorata di una femmina, la ragazza misteriosa, è omosessualità. Se invece volete dirmi che le gemme sono più simili a un maschio, perché sono asessuate in qualche senso, in qualche modo, beh, allora c'è Rose che diventerebbe omosessuale con Greg. Se volete dirmi che non sono né maschio né femmine, ma sono una cosa completamente diversa, cioè sono asessuate, beh, allora Rubino e Zaffiro sono due gemme asessuate che si amano. Il termine omosessuale riguarda anche cose di questo tipo, lo sapete, vero? Stesso sesso. Non due maschi, non due femmine, stesso sesso. Quindi se parliamo di un terzo sesso e due persone dello stesso sesso si amano in questo terzo sesso, sono comunque due persone dello stesso sesso che si amano. Non è cambiato nulla. Quindi, tecnicamente, non si può non parlare di omosessualità all'interno di Steven Universe. In quanto, casomai non vi andassero bene le gemme, anche fra gli umani ci sono degli omosessuali. Primo fra tutti, il signor Smiley, che è stato rivelato ufficialmente come omosessuale. E non è la mia opinione, ma è quella dei creatori. Quindi comunque voi le interpretate, l'omosessualità c'è, o fra le gemme o fra gli umani. E fra le gemme c'è comunque, perché abbiamo visto tre tipi di coppie, assessuata con femmina, assessuata con maschio, e assessuata e sessuata, e in qualsiasi modo voi la vogliate intendere, sono omosessuali. Una delle tre è per forza omosessuale. Ok? In ogni caso, sono gemme dall'aspetto femminile. Di conseguenza, vedere due femmine che si baciano, eccetera, se non è effettivamente omosessualità, secondo voi che cosa rappresenta? La ricetta della carbonara? Quando per la bacia a Rose, che cosa sta rappresentando? Sono due femmine che si amano. È questo che tu vedi, no? Sapere che loro non hanno una vagina perché sono assessuate, non credo che cambi molto le cose. Steven è la fusione di Greg e Rose. No. Punto primo perché Greg esiste ancora. E secondo perché, se volete dire che non si è fuso con tutto Greg, ma solo con una sua parte, non ha senso lo stesso perché Rose era incinta. E non mi risulta che qualcuno sia mai rimasto incinta per creare una fusione. E secondo? Scusate, ma Rose con cosa si sarebbe fusa? Con il nulla più assoluto? Con uno spermatozoo? Non ha senso? Steven è Sans di Undertale? No. È una teoria. Le teorie sono fatte apposta per essere teorie. Cioè, modi alternativi di spiegare determinati fatti all'interno della serie. Certo. È carino pensare che Undertale e Steven Universe siano collegati. Ma ciò non significa che Steven sia Sans e che possiate mettervi a litigare per dire che Steven è Sans. Perché non è così. Steven è Steven. Sans è Sans. Probabilmente i creatori di Undertale e Rebecca Sugar nemmeno si sono mai incontrati. Inoltre, Undertale è più recente di Steven Universe. Steven Universe è del 2013, Undertale è del 2015. In Undertale non c'è assolutamente la canzone Stronger Than You. Quella canzone è un video di YouTube fatto da un fan che ha preso la canzone di Steven Universe e l'ha collegata ad Undertale. Ma è una cosa fatta da quello YouTuber. Non è una cosa ufficiale. Stronger Than You è la canzone di Garnet. Punto. Cantate da Estelle. Il fatto che poi abbiano fatto dei video su YouTube non significa che Steven Universe abbia copiato la sua stessa canzone da un video. Rebecca Sugar ha fatto anche Adventure Time. No. Allora, allora, allora. Conoscete le differenze fra il termine produttore, creatore, regista, sceneggiatore? Rebecca Sugar è la creatrice di Adventure Time. Nel senso che non è la regista, non è la produttrice. Ok? È la creatrice. Cioè colei che ha pensato i personaggi, ha pensato la storia e che gestisce da dietro tutta quanta la Cree Universe. Cioè coloro che creano Steven Universe. In altre parole, lei ha pensato la trama, decide come si deve evolvere, ha pensato la trama generale, eccetera. In Adventure Time non ha fatto tutto questo. Lei non è la creatrice di Adventure Time. Rebecca Sugar ha fatto molte cose in Adventure Time, ma non è la creatrice, non è suo, non è un suo cartone animato in alcun modo. Per fare un cartone animato ci vogliono centinaia di persone. Se in Steven Universe Rebecca Sugar è la persona più importante perché ha deciso tutto, in Adventure Time è solo una delle tante. Certo, una delle più brave, ma non è suo. Ma le gemme non hanno tutto aspetto femminile. Ci sono Zircone, Rubino, Jasper, Topace, sono tutti maschi. Cosa? Non so come sia possibile che alcune persone siano convinte che Zircone sia maschio, ma sono tutte femmine. Nel senso che, certo, sono asessuate e non possedono una vagina, ma hanno aspetto femminile, doppiatrice femminile, e all'interno del mondo dei cartoni animati vengono considerate ufficialmente come personaggi femminili. E se si riferisce a loro al femminile. In nessun modo e in nessun caso, Rubino, Zircone, Topazio o qualsiasi altra gemma vi venga in mente, è maschio, ok? Che puoi pensare che Jasper sia un maschio è terrificante. Ma non vi accorgete che hanno voci da donne, che sono interpretati da donne? Quindi, attenti, cercate di distinguere ciò che è ufficiale e ciò che non lo è. Se una cosa non è stata detta dai creatori, è una cosa che pensano i fan. Se una cosa è stata detta dai creatori, è ufficiale. È assolutamente inaffondabile e vera. Se si contraddicono, purtroppo entrambe le informazioni sono vere. Per ora non si sono ancora contraddetti, per fortuna. Però, figlioli, sì. State attenti a chi ha detto una certa cosa. Se l'ha detto uno youtuber, non conta un cazzo. Se lo dico io, non conta un cazzo, ok? Se la dice Rebecca Sugar, invece è vera. Quindi, il fatto che io pensi che la sigla di Steven Universe sia più bella rispetto alla canzone Stronger Than You, ovviamente la mia opinione non conta assolutamente nulla. Riguarda me e basta. E non siete costretti ad essere d'accordo. Se Rebecca Sugar dice che in Steven Universe si parla di omosessualità e poi lo dico anche io, è perché io sto parlando di lei. Non è la mia opinione, non è una cosa che io vi dico. È una cosa che ha detto lei. Io vi faccio solo sapere che lei l'ha detta. Che poi, se non mi credete, vi basta una brevissima ricerca su Google e potete scoprire quello che ha detto Rebecca Sugar senza problemi. Vi potete guardare tutte le sue interviste e sentire tranquillamente le parole sono lesbica e all'interno di questo cartone animato parlo della mia sessualità.